Ciao a tutti ragazzi, ben ritornati nel mio canale, io sono Blaziken68 e benvenuti in questo nuovo video. Allora, per sbloccare gli abiti di Yardrat di Goku dovete andare nella parallela numero 20, concludere la missione in meno di 5 minuti e infine sconfiggere Cell. Anche se molto probabilmente questi abiti sono sbloccabili anche senza fare la conclusione suprema. Quindi ragazzi, io spero di esservi stato da Youtube, noi come la storia ci vediamo nel prossimo video. Grazie a tutti. Grazie a tutti.